Ragazzi, che domenica nostalgica questa che sarà, rimarrà la storia come la domenica in cui Totti si è ritirato o comunque lascerà l'Italia e la Roma. Totti per me rappresenta l'ultima davvero bandiera, l'ultimo baluardo di un calcio che non esiste più, di un calcio che ha dato sempre più spazio a soldi ed interessi. Io ricordo, quando vedo Totti ricordo quel calcio che sin da piccolo mi fece sognare, un calcio fatto di radioline dove non c'erano tutti sti giri di soldi, dove appunto c'erano uomini, bandiere come Zanetti nel mio caso, ma visto che sono interista, Del Piero per la Juve e Totti oggi, bandiere che appunto avevano la forza di rifiutare soldi, proprio per l'amore che sentivano per la propria maglia. Quindi Totti da questo punto di vista merita davvero una statua a Roma, per quello che è stato non solo per Roma ma proprio per il calcio in Italia. Totti probabilmente avrebbe meritato una carriera molto più importante dal punto di vista delle soddisfazioni personali, però lui stesso ha detto che per me non esiste soddisfazione più bella dell'aver vestito la maglia della Roma, la fascia da capitano e il numero 10. E questo per me è davvero il calcio, il bello del calcio, vero e proprio, quindi davvero saluto con tristezza Totti che lascerà l'Italia e lascerà Roma questa giornata. A tal proposito mi volevo collegare davvero al calcio di oggi, è una storia che davvero pure non tanto mi piace, da sportivo più che da interista, ossia il rinnovo di Donnarumma, ma devo fare i complimenti allo stesso modo al Milan, perché per me sta gestendo la situazione davvero come una grande società dovrebbe fare, si sta facendo rispettare. Per la prima volta vedo una società degna del nome del Milan che esige rispetto dei propri tesserati, in questo caso credo che per quanto riguarda Donnarumma il problema non sia il ragazzo, ma ovviamente Raiola e il suo procuratore, sappiamo tutti i giochini mediatici e non di Raiola. Sentendo Fassone che ho sempre criticato quando era qua all'Inter, ho visto davvero un uomo che esige rispetto. Questa per me è una cosa molto importante, collegandomi alla storia di Totti, mi fa capire ragazzi quanto è cambiato il calcio oggi, davvero oggi girano solo interessi, soldi, non c'è più l'amore per la maglia, si pensa già a tanti soldi, già a 18 anni davvero, io non ho parole onestamente, in questo calcio che non mi identifica più però, resta comunque il nostro sport preferito, sport più bello che ci sia, però davvero vedo oggi il calcio con molta nostalgia, Totti non ha ancora, adesso in questo momento ho lasciato la Roma, però davvero vedo tutto questo con molta, molta nostalgia amici miei. Cari miei, ci sentiamo tra qualche ora, saluterà l'Inter Palacio, un altro davvero, un giocatore che sono molto affezionato, meritava anche lui assolutamente delle soddisfazioni, meritava un Inter sicuramente diverso da questa qua, quindi ci sentiamo dopo per il post inter-udinese, a presto ragazzi, buona domenica a tutti.